Il Tribunale di Bologna ha assolto questa mattina il governatore dell'Emilia Romagna Vasco Errani, accusato di falso e ideologico nell'inchiesta Terre Merse. Secondo il giudice Bruno Gian Giacomo, il fatto non sussiste. La vicenda fa riferimento a un finanziamento della regione da un milione di euro, alla cooperativa guidata allora dal fratello di Errani, Giovanni, assolti anche i due dirigenti della regione, Filomena Terzini e Valtiero Mazzotti, perché il fatto non costituisce reato. I due erano accusati oltre che di falso anche di favoreggiamento, accusa di cui non rispondeva il Presidente poiché è fratello di uno degli altri indagati. Con la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice si chiude il rito abbreviato. Errani si è detto soddisfatto della piena assoluzione. Sono molto contento, la verità si è fatta strada. In questi mesi non ho mai usato parole, non ho mai cercato di sfuggire, che ho seguito fino in fondo con rispetto e fiducia, rispetto e fiducia nella magistratura e nella giustizia e ci ho messo la faccia. A tutela del mio onore, dell'onore della regione che rappresento, oggi c'è una sentenza chiara e inequivocabile e questo mi fa piacere. Credo che sia un risultato importante e adesso bisogna lavorare. Grazie a tutti.